Per la prima volta nella lunga storia del prestigioso campionato di scrittura a mano l'istituto Tassoni era stato ammesso in finale Che facciamo ora prof? Scusi prof, ho difficoltà anch'io con il correttore automatico, non riconosce la parola idea Buongiorno ragazzi, sostituisco il professore stamattina All'interno della setta dei poeti a stento, Susi era quella dichiaratamente più lontana da un qualsivoglia stile lirico A tarda notte si diffuse in città l'allarme per le piogge alluvionali Di solito arrivavano più avanti tra gennaio e aprile Ma con i cambiamenti climatici tutto mutava velocemente e non ci si capiva più niente da un pezzo I gatti sono così, pensano che tutti gli altri all'infuori di loro siano degli allocchi Ah eccovi, ce l'avete fatta finalmente, vi stavo aspettando Lei? esclamarono i ragazzi Ma che ci fa qui? Lei? esclamarono i ragazzi